Mingo, ex inviato barese di Striscia la Notizia, avrebbe truffato per 170.000 euro Mediaset con la complicità di sua moglie, facendosi pagare 10 servizi relativi a fatti inventati e invece spacciati per veri, e facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. Tutto all'insaputa del collega Fabio. La procura di Bari ha chiuso le indagini nei confronti di Domenico De Pasquale, Narte Mingo, Corinna Martino, amministratore unico della MEC Produzioni SRL, di cui il marito Mingo era socio, e della segretaria accusata di favoreggiamento personale per aver mentito agli investigatori che indagavano sui falsi servizi trasmessi dal Tg Satirico. I due indagati, Mingo e la moglie, sono accusati a veri titolo di due truffe, simulazioni di reato, falso, calunnia e di difamazione ai danni degli autori del programma di Mediaset, da loro indicati nei comunicati stampa e sui social come corresponsabili e ideatori dei servizi falsi. La prima truffa è quantificata in oltre 21.000 euro e fa riferimento alle spese pagate da Mediaset alla MEC per i 10 servizi ritenuti falsi. Questa presunta frode è relativa al periodo compreso fra dicembre 2012 e dicembre 2013 ed è contestata a Mingo De Pasquale. Corrina Martino riguarda i 10 servizi risultati artefatti, simulando fatti, personaggi, circostanze e condizioni, frutto della fantasia degli indagati e precostituiti, secondo il PM Isabella Ginefra. La seconda truffa dell'importo di 151.000 euro è contestata alla sola Martino e fa riferimento a presunte false prestazioni lavorative di figuranti attori rimborsate da Mediaset. Un giudice terzo valuterà la condotta dei miei clienti che sollecitano un processo celere in cui dimostreranno la loro estrenetà ai fatti e quanto dichiara in una nota il difensore di Mingo e sua moglie Corrina che parla anche di presunte pressioni su testimoni durante la fase delle indagini denunciate dai suoi assistiti, ritenendo così le imputazioni evidentemente viziate e chiedendo per questo chiarezza sui tanti lati oscuri di questa vicenda.